questo video è sponsorizzato da jlc pcb un'azienda specializzata nella produzione di circuiti stampati che con tariffe bassissime permette di ricevere pcb di ottima qualità in pochi giorni l'azienda è leader mondiale nella produzione di circuiti stampati ed usa macchinari di ultima generazione per garantire un elevato standard di qualità potrete ordinare al costo di soli 2 dollari 10 prototipi con un tempo di produzione di soli due giorni basta fare l'upload dei file gerber sul sito specificare i dettagli costruttivi e le quantità e attendere provate il nuovo servizio di montaggio smd beneficiando di uno sconto di 7 dollari sulle spese di montaggio ciao a tutti questa sera per la serata riparazioni il protagonista sarà questo oggetto che è un caricabatterie con scr progetto glorioso di nuova elettronica questo oggetto ha circa 10 anni l'ho sempre usato parecchio per ricaricare batterie di auto moto motorini e un bel giorno ha fatto qualcosa di strano ho attaccato il terminale positivo di una batteria e dopo un po ho sentito uno strano odore di bruciato quello odorino tipico di qualcosa che si è guastato per cui cogliamo l'occasione per andare a vedere come è fatto lo schema tentiamo la riparazione buona visione ecco qua il nostro oggetto porta ancora i segni di qualche schizzo di acido di una batteria probabilmente collegato alla rete elettrica se spingo il tasto on rimane completamente spento e questo diciamo potrebbe andare ancora bene nel senso che non abbiamo ancora collegato nulla ma normalmente quando io attacco una batteria magari anche un po' scarica succede che la prima barra di led normalmente si accende perché comunque questo è un sensore che è sulla corrente di uscita ma quando collego la batteria un primo led mi si accende sempre e questo adesso non avviene più ho collegato una batteria che dovrebbe essere carica andiamo a vedere la tensione 12 volte 46 tutto è acceso in modalità manuale ma vedete che la sbarretta è sempre spenta anche se cambio il livello di corrente di uscita andiamo ad aprire il caricabatterie sarà sufficiente svitare le viti qua su il coperchio esterno verifichiamo il fusibile di uscita quindi lo svitiamo dal pannello frontale multimetro in modalità continuità andiamo a vedere fusibile buono ecco come si presenta il nostro caricabatterie con SCR notiamo un bel trasformatore un altro magnetico qui schedina di controllo posta davanti per la parte a led la scheda principale è alloggiata qua sulla base e poi abbiamo la scheda ausiliaria qua sul retro quella che governa poi i finali di potenza che vanno a essere dissipati su questo grosso dissipatore ecco qua vediamo i finali di potenza che sono direttamente avvitati sul retro trovare lo schema elettrico di questo caricabatterie non ci sarà difficile in quanto essendo di nuova elettronica sul circuito stampato sicuramente troveremo le indicazioni infatti qua troviamo un LX 1624 quindi da questa sigla saremo in grado di risalire alla rivista e anche allo schema non sarà difficile trovare la rivista perché le ho conservate tutte in formato cartaceo ricordo con nostalgia i tempi di nuova elettronica in cui quando ero ragazzo andavo a trovarli visto che ci abitavo di sopra e andavo a curiosare nei loro laboratori poi negli anni sono riuscito anche a lavorare un po' insieme a loro la rivista è la numero 224 di agosto settembre 2005 in copertina abbiamo caricabatterie con di odi scr come sempre l'articolo è molto ben fatto con una piccola introduzione ci spiega che questo caricabatterie esegue un controllo di corrente per la carica di batterie al piombo e utilizza un meccanismo per parzializzare la corrente sfruttando un ponte a onda intera che invece di 4 diodi tradizionali ha 2 diodi e 2 diodi scr per cui dei tiristori che verranno accesi a seconda della funzione di controllo per parzializzare la corrente di uscita ecco lo schema blocchi dove vediamo appunto dalla rete di ingresso fusibile interruttore trasformatore che abbassa la tensione a circa 32 volt e poi un ponte di diodi dove al posto di questi due diodi abbiamo due scr che sono sul ramo positivo da questo ramo infatti esce la corrente positiva che poi giunge alla batteria per la ricarica abbiamo una resistenza di sensing della corrente quindi sapremo sempre quanto vale la corrente che scorre dentro la batteria per ricaricarla e viene usata sia per avere un'indicazione luminosa con dei led che verranno gestiti da un integrato che non è alto che un voltmetro ma anche per impostare la soglia alla quale poi la carica della batteria si ritiene essere esaurita cioè quando la corrente di carica è scesa sotto un certo valore perché la nostra batteria si è caricata l'oggetto ha la capacità di staccarsi in automatico ecco lo schema di dettaglio notiamo subito sull'ingresso due opto isolatori che si occupano di creare il cosiddetto zero crossing cioè sapremo sempre in qualsiasi momento quando la tensione alternata di ingresso di rete passa per lo zero e questo è necessario per il controllo degli SCR infatti l'SCR lascerà passare una quota parte della semionda e per sapere quando accendere l'SCR abbiamo come riferimento il passaggio per lo zero della tensione di ingresso poi da questa parte abbiamo il controllo dei led affidato a questo integrato IC1 e tutta una parte di operazionali che si occupa del controllo della soglia verifichiamo anche lo stato del fusibile di ingresso che è posto qua sul lato posteriore subito dopo la 220 volt anche questo è buono quindi le protezioni non sono intervenute sia quella di uscita che quella di ingresso verifichiamo ora la presenza della tensione di rete all'interno del nostro caricabatterie quindi ci mettiamo dopo l'interruttore che ho messo su ON e questo praticamente è sulla fase e poi andiamo a toccare il neutro che è un riferimento interno 225 volt alternati quindi la nostra tensione di rete arriva correttamente allo stadio di ingresso del caricabatterie vediamo se i diodi normali del ponte ad onda intera sono correttamente funzionanti per cui con il multimetro in modalità giunzione andiamo a verificare l'aggiunzione tra anodo e catodo abbiamo sentito il bip del multimetro ok vediamo l'altro che è da questa parte anodo e catodo anche questo è operativo sempre sulla scheda di potenza vediamo che la resistenza di sensing della corrente rcs è realizzata tramite tecnica strip line e quindi ci sono delle piste del circuito stampato che sono state calcolate in modo molto preciso con valore ohmico per avere una resistenza di misura questa è una tecnica molto interessante perché ci permette di risparmiare molto per quello che riguarda i componenti perché altrimenti avremmo dovuto mettere dei componenti discreti di costo non basso delle resistenze di shunt di basso valore invece con questa tecnica sfruttiamo il circuito stampato per questa misura l'altra cosa interessante di questo caricabatterie è questa impedenza Z1 che alla fine è una grossa induttanza in serie sull'uscita e questa serve a stabilizzare la corrente in pratica se non ci fosse questa bobina di uscita avremmo che la corrente potrebbe variare molto velocemente con dei picchi proprio per la natura diciamo impulsiva delle accensioni e spegnimenti degli SCR invece la bobina una volta magnetizzata sappiamo che si oppone alle rapide variazioni di corrente così come fa un condensatore per la tensione quindi vedete che è anche abbastanza grossa per poter sopportare correnti di carica tranquillamente fino a 5A senza avere problemi di nessun tipo dunque abbiamo misurato la tensione di rete in ingresso tutto bene abbiamo visto che i diodi sono buoni questo DS3 e DS4 qua abbiamo gli SCR per cui potremo andare a misurare fra il punto di congiunzione dei due catodi dell'SCR quindi fra il punto 6 e la massa quindi il ground vediamo che tensione c'è se tutto va bene dovrebbe esserci una tensione continua che è quella che poi va ad alimentare tramite la nostra induttanza di uscita e il fusibile la nostra uscita mi metto col terminale meno del multimetro sul negativo dell'uscita e quindi la nostra massa e col puntale positivo vado a prendere il punto 6 che ecco 13.22 quindi qua sembra essere tutto regolare ho spostato la bobina di uscita su questo lato di modo che riesco ad accedere al lato posteriore della scheda con lo oscilloscopio vado a vedere la tensione di gate del nostro SCR per vedere l'innesco del appunto dell'SCR forse poteva essere prevedibile ma la tensione è zero quindi l'SCR non è pilotato per niente mi sono quindi messo su questo punto sul gate di questo SCR e ho visto che la tensione è zero risaliamo la catena andiamo direi fino al punto 3 che è l'ingresso della schedina di potenza vediamo se sul punto 3 c'è segnale posiziono la sonda sul punto 3 che è l'ingresso di questa scheda di potenza e vado a vedere il segnale questa volta il segnale è presente con un valore continuo e un ripple sovrapposto a 100 Hz derivante dal raddrizzamento della tensione di ingresso il segnale al piedino 3 è prodotto da IC2 che è un operazionale LM311 verifichiamo se la tensione di alimentazione generata da questo IC1 che è un LM34215 è effettivamente 15 volt ed è stabile qui abbiamo 5 volt di visione per cui 15 volt alimentazione stabile e pulita andiamo indietro nella catena e vediamo che questo IC2 è pilotato da questo TR4 e poi abbiamo dei segnali che provengono da IC7 verifichiamo ora se lo zero crossing detector cioè il circuito formato da questi due opto isolatori che ha il compito di trovare lo zero della tensione di rete funziona bene per cui andiamo a visualizzare il segnale sul pin 1 e ci aspettiamo un segnale che segua la tensione di rete e sia in grado di identificare lo zero della tensione di rete direi che ci siamo perché il segnale è compreso fra 0 e 15 volt e va a 0 tutte le volte che il fotoisolatore conduce quindi quando la sinusoide di ingresso è tale da passare lo zero e mettere in conduzione il fotodiodo il fototransistore si accende e abbiamo lo zero vediamo il segnale che è in ingresso al nostro comparatore IC2 in particolare sul piedino invertente vediamo che viene generato un segnale che dovrebbe essere una rampa infatti riconosciamo un current source che va a mettere una corrente costante su una costante RC questo produce una rampa di tensione lineare e quindi ci aspettiamo una forma d'onda triangolare a questo ingresso sul piedino 4 ritroviamo la nostra forma a dente di segua e quindi rampa lineare quindi l'ingresso è corretto verifichiamo l'altro segnale sul terminale non invertente che arriva al nostro comparatore IC2 proviene da un altro comparatore IC6B il segnale in uscita da IC6 in effetti è zero e invece dovrebbe essere un livello diciamo più o meno alto per comandare l'accensione dell'SCR in pratica più è elevato più avremo un angolo di conduzione elevato il nostro IC6 si trova qua per accedere all'integrato ho aperto la scheda perché altrimenti non riesco ad accedere ai segnali andando a guardare sotto guardate cosa ho visto vedete quest'area in pratica abbiamo una bruciatura e secondo me anche la pista del circuito stampato è interrotta su questa pista è passato un sacco di corrente e poi dall'altra parte questa resistenza è annerita e secondo me la puzza di bruciato che io sentivo è colpa di questa resistenza qua tra l'altro questo percorso si trova proprio in prossimità della resistenza di shunting dove passa il grosso della corrente ho grattato via un po' di nero che si era carbonizzato e vedete la pista in rame che si è sollevata quindi molto probabilmente si è interrotto il collegamento e forse anche la resistenza che è qui dietro ha patito ho ricostruito la pista tramite questo cavetto che dal ground arriva direttamente al reoforo del nostro integrato e poi si collega da questa parte ho sostituito ovviamente anche l'LM358 ho collegato una batteria momento della verità occhio alla barra di led vediamo cosa succede accendiamo si perfetto quindi quel guasto è stato risolto ho dovuto spegnere subito perché adesso ovviamente non sono in controllo corrente per cui la corrente va subito al massimo e non voglio danneggiare la batteria con una corrente troppo elevata ho ricollegato anche il loop di corrente per cui adesso dovremmo riuscire anche a regolare la corrente di carica accendiamo e andiamo a regolare la corrente mezzo ampere un ampere vedete che si riesce a regolare in maniera graduale la barra led ci sta a indicare il valore di corrente di carica perfetto direi che il nostro caricabatterie è ritornato operativo serviamo nuovamente il segnale di comando agli SCR al pin 3 se aumento la corrente di uscita vedete che l'SCR comincia a condurre sempre di più e il segnale va a zero questa è l'uscita dell'SCR in assenza di corrente se comincia ad aumentare la corrente verso la batteria vedete che compare un pezzo di sinusoide mano a mano che aumento la corrente di uscita la sinusoide che viene presa è sempre di più e quindi la corrente in continua con la quale carico la batteria aumenta sempre di più veniamo ora all'autopsia del guasto vi dico quello che secondo me è successo il circuito stampato di controllo appoggia sopra delle torrette e ha un piatto metallico conduttivo sotto che è lo chassis del nostro caricabatterie siccome questo caricabatterie lo tengo nella parte bassa del laboratorio non escludo che possa essere entrato del bagnato da sotto da questi forellini e quindi il punto sotto tensione dell'operazionale è andato a toccare direttamente la parte a terra scaricando una grande corrente che poi ha bruciato la pista per evitare questo problema quindi alzo la mia scheda tanto di spazio ce n'è e poi sotto il circuito stampato vado a mettere un foglio di isolante abbastanza rigido in modo che comunque venga isolato rispetto allo chassis metallico in maniera più efficiente fissato il foglio di isolante ecco di nuovo in funzione il nostro caricabatterie sta caricando una batteria da 5 ampere ora 12 volt quindi la corrente consigliata è di circa un decimo per 10 ore quindi mezzo ampere e con questo termina il video di questa sera l'oggetto è stato riparato il like è meritato ciao ci vediamo alla prossima l'oggetto è stato Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.